E' il primo Se il primo è stato... Oh si che si vede bene! Merde! Cato che noi non metteremo un cazzo di stamattina Cos'è è inibili seconda mano Porco falsa! E' una buona 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 Ma tu vuoi? Io non la devo guardare! Aspetta Vieni giù quindi Ciao Bologna Motor Show di Bologna Non mi sentivo più Ma il Motor Show non è Però c'è gente del WRC Questa è una forza Ficchia però Non è passata tanta gente dentro del ritmo Questa è la presa stretta Questa è la 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 È infiodato forte questa Questa è la un po' di errore, mi sa qua la mitsubishi è anche più piacevosa no, forse lui quante s2000 sono in passaggio? no, questa qui è un subaro o un mitsubishi o un subaro si sente ecco il nuvolone mitsubishi così va piano così va piano così va piano ho scoccato qualcosa questo questo è un vecchio Cosworth cioè un vecchio Ford Escort vabbè in effetti si 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 è mio beh non so se è mio non so se è mio le temperature comunque quella di prima era stasi va bene no, se fassi le temperature la roba è rinforzata come fa a un faro? non è che è una moto non sei una moto no, più di una non è che è una moto è una moto ma il disco non è il disco non è il disco La Mitsubishi non è che si divertiti tantissimo. Cioè, questa cosa... Questa volta mi sono buttato via, guarda quanta chilometri, 500 giri in veniva. Come camion. Questa volta mi sono buttato via. Questa volta mi sono buttato via. Questa volta mi sono buttato via. Questa qui non è un 208, te lo posso dire. No, è ancora un 208. Questa volta mi sono buttato via. Sì, lo so. Ma comunque già quella di serie è pinza. Questa volta mi sono buttato via. Questa volta mi sono buttato via. Eccolo. Questa era? Questa è la... Dio. 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 C'è tutto no, fatta. Madonna! Ce la faccio eh, giuro. werdeno un attimo e lo prendo anch'io. 20 mila euro Poi finivano, ma che cazzo? Dai questo rumore, mi piace Qua è più carata, visto? Volevo sedermi, scusi Era un po' più alto Che rumore aveva quella rosa? A punto Sbarra Volevo! Quasi cose mi sta venendo a coglione di vedere ci Così possiamo fare ciò Volevo! Chi sei? Chi sei? Chi deve mangiare? Niente questo qui è un rombo, non si vede più un cazzo È solo un rombo di tutto Nooo Perché non fai? Massimo, come fai a organizzare? Chiudi la strada? Chiudi permesso il cammone, chiudi la strada Quindi era una roba tra amici Si sicuro Non agonistica Quindi in teoria non prendi Chiudiamo 3 km di strada Pronti, dono il permesso per fare una gara di regolarità Nel periodo dovresti andare piano Poi loro ti dicono Vedi che cazzo vuoi? Ma se tu mi dici come è che cazzo vuoi? Ma se tu mi dici come è che cazzo vuoi? Nooo Tu mi si fai spingo Sparco, tu ti risponde sparco Una bella prenda A me è sicuro che mi vado a casa Un po' di regolarità 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 Quanto luca Quanto luca Questo potrebbe non essere già grande Ma da ruore Ma dal ruore Il nostro corso gratuito è gratuito Adesso dobbiamo capire che minchia di auto è questo E boom Basta, finito Sì Sì Ah no 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 Deve essere tanto affatto Sì ma non cercate le persone No no giuro Abbiamo solo un po' Grazie Grazie Vai tranquillo Grazie Non so quanto sono fatta Mini Dovrebbe essere la Renault Pio R1C Allora Eeeh nazionale Sì Sì arriva la Panda Mi ha detto mio fratello che è più giù Oh come è con la Panda Arriva la Panda Guarda anche questi Guarda anche questi Mangia l'ora di Mauro capo Eeeh Eeeh E' l'89 Lo so Quindi è già passato No Eeeh Di devo farlo passare E' un altro team di Bielga mi sembra O dei Bielga No, 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 no. Guarda che c'è il barone di letto. Guarda che c'è il barone di letto. Guarda che c'è il barone di letto. francesco polidoro dai porco è un altro 600 sicuro però questa qui si è la viaggia oh la madonna non c'è ma si vede la band eccola la band è un saxon 950 senza servo sterzo 106 106 se c'è il sentiero se c'è il sentiero ma io vado direttamente a casa fatemela sentire si llega ai mi ralco si